ragazzi vi faccio vedere il video della coda cambiata in alluminio rispetto a quella in carbonio questa non vibra come avete notato la coda non ha vibrato per nulla adesso rimettiamo la coda in carbonio ma senza il cuscinetto centrale una prova coda cambiata in carbonio vediamo gli effetti gli effetti sono sempre uguali la coda vibra